Dopo il 5 a 1 alla Pro Livorno, l'Aglianese piazza un altro colpaccio con l'arrivo di Andy Bangu, classe 1997 di nazionalità congolese, cresciuto nelle giovanili della Fiorentina e con esperienze nella regina Vicenza Matera, Bisceglie e Gubbio. Il nuovo mediano nero-verde ha già sostenuto un allenamento con i compagni e sabato sarà a disposizione di mister Colombini per la gara interna con la Marignanese. L'incontro, previsto inizialmente per domenica, è stato anticipato proprio al sabato, sempre alle 14.30, per una sfida che servirà come il torriere test per le grandi ambizioni della squadra. L'acquisto di Bangu certifica, se ce ne fosse stato ancora bisogno, della volontà della società di tentare il salto di categoria. La Marignanese, che domenica ha pareggiato 2-2 sul campo del Rimini, è poco sotto la metà della classifica, con 15 punti contro i 37 di nero-verdi, frutto di tre vittorie, sei pareggi ed otto sconfitte, con 21 reti fatte e 30 subite. Una gara quindi da vincere per proseguire la scalata alla Serie C, da sabato con un Bangu in più. Grazie. Grazie.